bomba vieni a vedere che milf che ho trovato in un pacchetto fraido non so se è scambiabile non so se è scambiabile non è scambiabile porco chi è sta gente reccio boniface saluta ragazzi il bombone ciao ragazzi mamme se siete liberi contattatelo in privato allora food champions il dado stava 17 1 dopo il 17 1 ci sono state 5 partite perse al novantesimo il dado le vinceva il dado le vinceva stavo vincendo gente mai tirato ma niente al novantesimo me le pareggiava e i supplementari mi pigliavano pure per il culo che mi distruggevano e così 5 partite sono andate e dopo si è creato del nervoso che è sfociato in un oro uno abbiamo due top pick i nostri 200k primo pick del dado bisogna fare la macumba ma no ederson porco il demonio l'unico che c'ho romarigno dite davvero mi state prendendo in giro scusate ragazzi ederson lo metto in un sbc romarigno è rotto vabbè ma si è rotto si ma questo ragazzi sapete che mi sembra buendia buendia dell'altra volta mi avete fatto prendere buendia è scandaloso fa vomitare agilità 99 equilibrio 99 forza 81 prendiamo il rosmarino prendiamo allora il cane ragazzi è buono per l'overall ma il cane a quanto va ragazzi io ragazzi prendo enrico il cane vl con enrico il cane ufficiale con quel 3 di abilità e 4 di debole questo spacca le porte rosmarino e il cane allora quanti walk out in questi 3 pacchetti adesso va bene tutto però signori dell'iei va bene il primo l'ho preso benissimo dritto per dritto nel buco del culo un 84 che ha iacon non mi dà neanche un walk out non mi vuole premiare per il mio non fuori classe mi dicono sei imbecille non fai fuori classe e te ti pigli le briscole nella faccia ah ma me le sto prendendo alleno si 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 pacchetto ultimate non dai walk out per favore grazie toz ederson ma porco marcello groe ma chi è dai ma che cazzo di pic di merda ho i turi mi senti ciao bomber questa è quella weekend league questa è la weekend league dove dobbiamo fare gli affari grossi bell allora io ho trovato enrico il cane e ederson però mi hanno consigliato di prendere rosmarino secondo te rosmarino vale stazza alla mano si poi c'è da vedere in game se è buono o no l'hai l'hai osservato le stazze sono forti cioè come sub secondo me può essere forte però queste carte sono troppo strane hanno valori a caso cosa vuoi? da chi parto? fai tu fai tu faccio io? io devo trovare uno tra cansello ederson o bruno ne ho comprati sei di cansello se vuoi te ne posso dare uno vabbè romarigno dai ne abbiamo parlato allora sinistra guardi vabbè dai guarda jamie io vabbè con quel look anni 90 emo con cristino 82 di agilità bello vardi è sempre sempre overkill non importa le agilità è sempre forte terzo il portiere perfetto ederson prendiamo ederson va bene va bene 94 94 90 si poteva fare di meglio? assolutamente si ma adesso ci sono loro questi due tesoretti devo fare almeno un milione e mezzo ti dico già che sarà un walk out eh ho questa previsione qui ho ho questa previsione del walk out vabbè ruben diaz quanto sono? no va bene dai un milione è il primo milioncino bam vedi perché dovevo fare fuori classe perché se fai fuori classe fai un milione invece sapete io cosa ho fatto? oh ii non credo chiedo scusa per il mio scatto d'ira non è il mio solito fare scatti d'ira di questa costanza ma mi è uh brasiliano vabbè però aspetta è 94 sono 100 sto pacchetto mi sa che è di un frido l'avevo detto l'avevo detto è un bel pacco? sei contento? ci sta dai sì contentissimo abbiamo preso i due che costano meno 90 60 vabbè hai fatto un milione e due e cinquanta dai su un milione e due e cinquanta tutto sommato ci sta ci può stare abbiamo equilibrato abbiamo vabbè matte che dire grazie per il primo pacchetto prego per il secondo mi denunci mi denunci ciao bestia cabren signor cabren sei sparato? fuori classe fuori classe quale? 3 2 1 fuori classe umile un fuori classe molto umile mi sento che arriva la bombetta ragazzi me lo sento ti vuoi Ederson? questi picche bastardi 100 cappone e poi andiamo sul succulento sei bastardo però eh si sei bastardo però eh a S inglese c'è un altro signorino c'è ma scalzoni che non siete altri Rushford è S questo è Soush quindi questo è Rushford quindi tu mi vuoi dire no? Fofanà no di nuovo ce l'ho in tutte le versioni ce l'hai in tutto bello ti manca grigio ci sono almeno da poco tra tazzo sono 200.000 almeno è 200.000 Fofanà? lo troviamo subito cazzo ma cosa ci vuole? eccotelo qui tutto bello speciale becca a te sto Fofanà dammelo bello dammi quella bandiera bella su dai dai sei un maledetto dai sei un maledetto sei un maledetto sei Kundogane Showcheck vabbè almeno questo vale 200 qualcosa vale sto Ruben Diaz va bene ciao Gabren oddio è Lollobir time tu sei sparato Lollobir oro 1 hai capito il campeon eh ma hai chiesto un risultato migliore settimana scorsa e te l'ho portato e perché a me mi chiesto 19 con 4 rimaste ho incontrato gente con 6 icon per squadra e vabbè e hai mollato invece di questi chi vuoi Kundogan prendiamo il Kundogan non trovo nessuno di accettabile vanno tutti in un SBC bravo mentalità imprenditoriale Croson signori vediamo se intendete al mio 3 1 2 3 brevedi brevedi carino sto son chi è che manca hyperbooms cosa c'ha il pacchetto c'ho l'icon la centrocampista hai capito fermi tutti icona no ragazzi la beta la facciamo sul mio tozzo sul mio tozzo della premier su lui andremo lisci come l'olio tranquilli sperando che batte Demi si levi dalla schermata tutti sti riguadrini si gavino quello orrendo gattuso oh pirlo 93 meglio di gattuso te dico eh Andrea non è così inutilizzabile con quel 5 di skills che non ho capito perché a pirlo gli ha messo 5 di skills secondo me Andrea sa il fatto suo allora andiamo a fare il mio toast della premier garantito ragazzi miei non dico nulla dico solo che arrivo da 3 anni di salà 3 anni di salà ho avuto io vediamo il quarto cosa ci regala toast garantito della premier e poi facciamo la squadra ah no poi c'è grembo c'è grembo col suo fuoriclasse 2 apro me ne infischio dammi la bandiera buona dammi la bandiera buona inglese Enrico 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 porco il demonio ho capito che mi piaceva ma così stiamo esagerando uno me ne piaceva non tutti adesso andiamo a aprire il grembo intanto ci ragioniamo cosa hai fatto beh non l'ho guardato sono andato veloce fuoriclasse 2 si ok fuoriclasse 2 te lo posso dire ho trovato a me il cane a Lollo birra gli ho trovato son a te ti trovo Rashford sai che io l'odio quest'anno Rashford quindi può essere che lo trovo te lo trovo si è già tuo oh show lui è show metti quel warant champions in difesa adesso facciamo le manovre raga adesso facciamo le manovre già contento di aver trovato show guarda mi piace uh Ruben la ruberia eccolo lì c'è Banega fortissimo Banega apriamo tutto però adesso mi farò perdonare l'urlomato dei sub fatemi l'urlo per questo pacchetto ufficialmente il pacchetto PL premium garantito poderosi con questo tre if non è vero tre toz io lo sto guardando adesso te l'ho aperto ufficiale allora il no già che parti con allora fa cagare no l'overall è abbastanza alto è 94 dipende da chi c'è sotto vabbè ma è il portiere va bene oh beh sono tutti sotto sono eh dai non sto guardando che venisse l'acciaco tu chi è ah non stai guardando no non guardare non guardare non guardare faccio il calcolo faccio il ormai ho guardato ho guardato vabbè però un po' di credit sono no oh aspetta Ruben Diaz sono 430 Luca spettacolo sono 300 c'è 730 e adesso sono sono 90 hai fatto dai un 800 hai fatto un 800 eh va bene va bene no